Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola La gazzetta dello sport invece augura buona fortuna alle nostre squadre titolando Champions d'Italia E poi si concentra sul ritorno dell'Inter che a San Siro ospita gli inglesi del Tottenham nel girone più duro Nel taglio alto spazio al Dalla Juve con il debutto di CR7 a Valencia Infine passando in casa Viola finalmente potrebbe arrivare la prima da titolare per Marco Piazza Il croato come scrive Tutto Sport potrebbe partire dal primo minuto contro la Samp Per dare al reparto offensivo quell'imprevedibilità mancata al San Paolo Per Fiorentina1.com Andrea Valeri Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola